Flavia Capone Intanto grazie a lei per aver citato Finte e Bionde proprio questo già rispecchia un po' il tono anche del nostro background culturale meraviglioso e La Reputazione è un bellissimo romanzo è un romanzo di una persona che ha una capacità di narrazione e un talento enormi e una grande grazia nel raccontare anche le cose peggiori anche quelle che poi si rivelano essere veramente le più turpi questa è una bottega, una boutique dove tutti quanti in qualche modo vorrebbero passare ma forse nessuno vorrebbe rimanere troppo perché c'è il rischio di essere contagiati ho molto apprezzato il personaggio di Mary Franz che è un po' il cuore di questa storia perché è un personaggio complesso, ambiguo, sfaccettato una persona che deve sostenere un ruolo un ruolo che si è imposta da sola un ruolo di grazia, di eleganza di aspetto sempre perfetto però deve anche avere a che fare con il mondo che è un mondo che con lei è stato particolarmente crudele grazie a tutti grazie a tutti